buongiorno a tutte e a tutti grazie per l'invito purtroppo non posso essere presente di persona mi trovo in Canada al momento e per ragioni di diffuso orario diciamo l'unico modo per essere presente era quello di produrre questo breve video prometto che sarà il più breve possibile perché conosco bene le difficoltà nel seguire questo tipo di format vorrei rapidamente soffermarmi solo su un paio di elementi che sono uscite nel corso del lavoro che stiamo portando avanti con osservatorio balcani caucaso trans europa sui viaggi di istruzione chiamiamoli così verso il sud est europa o i balcani nello specifico verso la bosnia erzegovina come probabilmente sapete si tratta di un fenomeno in grande crescita ogni anno centinaia di studenti visitano sarajevo la bosnia erzegovina srebrenica eccetera e qui si tratta di un fenomeno che è stato parzialmente influenzato anche dal grande successo di viaggi della memoria verso auschwitz birkenau la polonia quindi incentrati sulla didattica della shoah ma i viaggi di istruzione verso i balcani hanno caratteristiche parzialmente diverse nonostante questo in realtà la storia e la memoria svolgono nella maggior parte dei casi un ruolo particolarmente importante non si tratta di realtà di esperienze così istituzionalizzate come i viaggi verso verso la polonia non esiste una giornata della memoria che in qualche modo che sono in qualche modo spinto verso la realizzazione di questo tipo di progetti e quindi le esperienze sono molto diverse sono si sviluppano in maniera indipendente su tutto il territorio nazionale anche per questa ragione però ci sembrava importante lanciare una prima un dibattito una riflessione sul significato di queste iniziative così come da anni esiste un ampio dibattito sul significato dei viaggi delle memorie verso Auschwitz ad esempio e quindi diciamo in questo brevissimo intervento quello che voglio fare è sottolineare quelle che sono le grandi opportunità che queste iniziative offrono ma cominciare anche a riflettere sulle sulle sfide su quelle che sono le sfide principali l'obiettivo l'obiettivo principale delle delle iniziative è generalmente quello di conoscere una storia europea che è generalmente sconosciuta se pensiamo ai territori che confinano in qualche modo con l'Italia sicuramente l'area balcanica è quello meno familiare per la maggior parte della popolazione le ragioni sono molteplici non è il momento per affrontarle tuttavia è chiaro che diventa importante anche per la stessa comprensione di quello che è il continente europeo che non può essere sempre soltanto inteso come l'Europa occidentale che quando nel momento in cui si allarga lo sguardo molto spesso lo si allarga semplicemente ad alcuni paesi dell'Europa centrale è importante lavorare a una comprensione più multiprospettica dell'Europa e della sua storia ma non si tratta solamente di chiudere un buco diciamo così si tratta di cogliere anche l'opportunità che questi territori offrono per una riflessione più ampia perché l'analizzare lo scoprire i balcani sostanzialmente ci fa confrontare con la solidità di determinate categorie interpretative che conosciamo bene la prima è quella dello stato nazione cosa ci possono dire i balcani su un concetto per noi così naturale direi quasi ma poi offrono un ventaglio di possibilità mi viene in mente ad esempio la storia dell'islam europeo o una prospettiva completamente inedita sulla guerra fredda sulle contrapposizioni ideologiche sulla cortina di ferra con il non allineamento giugoslavo ad esempio ma poi anche per il nostro paese la possibilità di approfondire quello che è stato il terreno il territorio di conquista principale per il nazionalismo italiano per molti per molti decenni e quindi molte opportunità molte sfide è necessario cercare di approcciare questa storia molto spesso compresa come percepita come una storia sostanzialmente di violenza al di là dei cliché degli stereotipi che si sono consolidati nella cultura europea occidentale a partire sostanzialmente dal diciannovesimo secolo ma allo stesso modo rappresentano un rischio gli stereotipi positivi come l'idea che si tratti di territori in qualche modo premoderni ancora non corrotti forse dalla modernità la visione dei balcani sostanzialmente alla custurizza se avete mai visto i film di custurizza in qualche modo forse la sintesi a quella di sfuggire anche all'eccezionalismo dei balcani l'idea che gli balcani rappresentino qualcosa di assolutamente eccezionale anche perché se sono così eccezionali chiaramente quale può diventare il nostro intento didattico cosa ci può insegnare su di noi sulle nostre società visitare questi territori. D'altra parte l'aspetto che più di ogni altro risulta centrale per tutte le iniziative che vengono portate avanti dall'Italia è la guerra degli anni 90, le guerre di distruzione jugoslava, le guerre che hanno sconvolto l'opinione pubblica anche dell'Europa occidentale, guerre che sicuramente offrono la possibilità di affrontare una serie di problemi particolarmente importanti anche purtroppo per la nostra attualità, il nazionalismo, il suo legame con le crisi economiche, con le disuguaglianze sociali, il crollo di un sistema politico valoriale, sociale, la costruzione dell'altro, la disumanizzazione dell'altro fino alle estreme conseguenze, la pulizia etnica e il genocidio con i fatti di streprenizza. Quindi appunto una grandissima potenzialità ma anche molti rischi quando nella maggior parte dei casi le iniziative puntano su un modello educativo basato sull'esperenzialità naturalmente ma su un'esperenzialità focalizzata molto sull'impatto emotivo, quindi in qualche modo il pugno in pancia per capire l'orrore della guerra, l'orrore della pulizia etnica in qualche modo per insegnare, per trasmettere un messaggio civico, educativo e che naturalmente va benissimo ma il punto che ci dobbiamo probabilmente, la questione che ci dobbiamo probabilmente porre è come trasformare questa conoscenza emotiva che poi in Bosnia è particolarmente preponderante perché purtroppo il paese vive ancora in qualche modo l'attualità del conflitto nelle sue dinamiche sociali, culturali e politiche e quindi può risultare soverchiante quella emotività. A noi interessa trasformare quell'emotività in comprensione dei fenomeni, delle dinamiche, di come si è potute arrivare a quel punto, di come una società che per alcuni aspetti non era affatto diversa dalla società, da altre società europee o occidentali, abbia potuto completamente collassare su se stessa ed arrivare a queste conseguenze. Questa è anche la grande sfida e esistono, nelle varie iniziative si propongono in modi molto diversi di rispondere a questa sfida. Io credo che vada anche avviato un confronto anche con quella che è la didattica dei genocidi e la didattica della Shoah quando si va a parlare di Srebrenica perché sicuramente esistono, esiste una letteratura, esiste un ragionamento molto più avanzato, ma se dovessi poi semplicemente sintetizzare il mio ragionamento di oggi, ecco, importante cercare di non trasformare i nostri ragazzi, gli studenti in viaggiatori europeo-occidentali ottocenteschi che visitano questi territori in maniera molto rapida e superficiale e che sostanzialmente sono quelli che hanno costruito il sistema di stereotipi e di cliché e il discorso peggiorativo sui Balcani con cui ancora facciamo i conti oggi. Io credo sia molto che non sia facile ma credo anche che sia assolutamente importante e possibile. Con questo vi saluto perché sono andato già oltre, purtroppo non posso fare la cosa più importante e interessante, cioè aprire un dibattito, un confronto con voi, ma spero davvero che ci saranno altre opportunità. Buon proseguimento e a presto.